DDoD Mi sa che la posso finire qua Una No, la finisco alla fine Intanto sto finendo ormai sono alla fine Purtroppo non ho prevenziato, che schifo è iniziata da un po', però non sembra, 9 giorni non so se sapete vorrei far parte prova che ho messo la finita tutto grazie a me tutto grazie a me bravo 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 lorenzo ringrazio questo è perché ma tutto questo perché sta vincendo la slovacchia hai visto? vincendo la slovacchia e vinto anche... perché hai messo questa canzone che è troppo... ehm... si 484 si è capito ma non è proprio bellissima, lo sai ah, mi pensavo fosse 714 no, dico per... 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 per...